amici e amiche di peppe high tech bentornati su roblox quest'oggi in compagnia di liam e geden sono qui vicino a me oggi giocheremo un paio di giochi consigliati da loro quindi fate bene attenzione se siete un po più piccini un po più grandi vi volete un pochettino divertire e seguite le istruzioni dei due piccolini che si dedicano anima e corpo a cercare giochi sempre più divertenti sul fantastico mondo di roblox mi raccomando continuate a seguire video alla fine così scoprirete di cosa sto parlando ora a tra poco ed eccoci qua amici e amiche dopo aver portato murder mystery 2 oggi giocheremo a murder mystery 4 però prima tolgo l'audio perché io non mi piace la questo è questo sì perché non me lo toglie perché no a forse questo è quello la della lobby va bene ragazzi e giocheremo a murder mystery 4 allora praticamente dobbiamo scappare dall'assassino giusto e quindi è non me lo ricordo più murder mystery 2 ma dobbiamo quindi dobbiamo scappare dall'assassino giusto e dobbiamo anche ucciderlo ok bene no non mi ti ricordavo che potevamo uccidere l'assassino io però sono ancora nella lobby prepartita eh e no e no e no devi aspettare che la partita finisca ah ok sono il giochernaut quindi voi mi dovete sparare tante volte ok datemi ecco sono sparato chi è che spara qua jaden ma devi abbassare la voce che stavo diventando sordo jaden io seguo te dove dobbiamo andare ah dobbiamo andare dal giochernaut andiamo vieni vieni jaden jaden vieni con me andiamo a spararlo ma liam è giochernaut si oh no e liam è forte a questi giochi ah no non ti ho chiedo ancora ma si può vedere quello che state combinando voi c'è la modalità spettatore e come si fa ehm vedi vedi il binoccolo ah ok ok devo fare là oh no c'è ancora il tizio ok ho capito jaden pure tu sei morto no jaden no è ancora vivo cerchiamo jaden eccolo jaden è ancora sopravvissuto stavo guardando jaden ora guardiamo il giochernaut guardiamo liam che cosa fa eccolo ecco che va in giro liam a cercare le persone da uccidere liam ti è rimasta poca vita attenzione io lo so pure a te vai 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 salvami vediamo liam se lascia vediamo jaden dove jaden è bello rifugiato per non farsi uccidere bravo jaden grande attenzione che liam potrebbe trovarti attento questo gioco questo gioco è divertentissimo no l'ho ucciso c'è riuscito liam liam attento attento che se ti uccide ha vinto no può vincere anche liam liam ma tu non lo puoi uccidere a quello così vinci tu sì un attimo è perché c'è il lag non riesco a vincere un po' e un po' no io non provo ecco vinto vinto hai vinto ha vinto liam si signore e signore ha vinto liam grande liam che era l'assassino facciamo il round trou per vedere se riusciamo questa volta a scappare a liam allora bene andiamo ora è il turno di liam essere lo sceriffo ultima partita ultimo giro ragazzi ricordatevi murder mystery 4 è il gioco che vi consigliano liam e jaden divertentissimo si è giocato insieme agli amici che c'è liam e sta rientrando dai dai rientra lì a jaden ah ebbene bene che l'hai già rientrato allora dai forza eppure io lo sento però non so dove l'assassino e vedi di ucciderlo liam dai oh che succede ho sentito sparare spara ancora stai sparando tu lo stai uccidendo ho sentito una coltellata è morto oh ha ucciso qualcuno non mi scappare no lo so così usa oh io sto scappando per non farmi beccare ok prendiamo il più diamanti possibili così dopo posso comprare altre armi dai che la partita è quasi finita può darsi riusciamo a sopravvivere tutti quanti oh quanti diamanti ci sono qua non me li fa prendere perché ho raggiunto il numero massimo di si ho raggiunto il numero massimo di diamanti bene c'è un passaggio segreto forse ah pensavo fosse un passaggio segreto è l'assassino provate inbrogliere ma vai nella pentola provate inbrogliere vai nella pentola si lo scusi perfettamente nella pentola dove è la pentola nella pentola anche in pentola ah nella pentola qua non mi vede dici no perché non mi vede in bar ma l'ho ucciso oh no ah si lo sceriffo e ha vinto di nuovo Liam signori e signori quindi ora vi faccio salutare anche dai bambini e per oggi abbiamo finito venite bimbi ciao 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 a tutti ragazzi e mi raccomando murder mystery 4 in compagnia dei vostri amici e così sarà divertentissimo giocare a questo splendido gioco di roblox e vi ricordo è gratuito ciao a tutti e alla prossima alla prossima ciao a voi ciao a tutti e ailica